Ciao a tutti, siamo in Anastasia, quindi noi ci vediamo quando vado al negozio. Ciao! Ok, siamo arrivati. È arrivato il vestito. Ciao, buonasera. È arrivato l'unzio? Ok. Che non aveva connessione, non ci sarebbe accesso, giusto? Che cosa? Questo. Non è stato un'intervento, giusto? No. Vediamo qual è arrivato. Eccola là! Sì, non ce l'ho. Cioè ce l'hai? No, non ce l'ho. Non lo devo fare. Lo deve nascondere in borsa, mamma, se no papà sta in fretta, perché se no non mi porta al cinese. Sì, sì, non mi porta al cinese. Già, io tu ce l'ho già brinato. Non so. Quindi comunque lo deve andare. Non ci, ma tu la tieni a casa di Malibu? Sì. Ma non si... Prezzo definito? Senti, che sto fatto da 105. Però penso che sia un buon prezzo. Poi, sai, poi i miracoli si fondano. Faccio sapere. Sì. Se lo spegne e accendete le mani, penso che sia un buon prezzo. Eh. 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 Grazie, Nunzio. Nunzio, ti chiamo, ti faccio sapere. Lo mette 105? Sì. Quella che mi dice. Ok, andiamo. Ok. Adesso ci vediamo dal cinese. Per comprare il vestito. Ok, siamo arrivati dai cinese. Sì, vado. Buonasera. Adesso. Ok, siamo qui. Adesso vedete il Natale. Il berello. Dove sta? Eccolo. Mamma, l'ho preso. Mamma, eccolo. Non lo so. Ci apprendo pure le cose. Non mi mangiare proprio. Eh, sì. Posso comprarlo? Sì. Queste sono le cose peggio. Oh, mamma. Ah, come ce l'ha Anna? Il rossetto a gomma. Aspettate, il rossetto a gomma. È una gomma da cancellare. Eh, v... Quanto centesimo? Ok, basta. Sì, sto solo vedendo. Che bellino. Sì, ti arriva un altro quadro, grandi e grandi. Sì. Che cos'è in realtà è di là. Vabbè, poi vedo io. No, cinque. Ma quanto sta, mamma? Che cosa dà? Questo. No, Dani. No, lo sapete solo quanto sta? Non lo so, ma l'esagerazione no. Non basta. Uffa. No. Cosa bellissime. Oh, carino questo intemperino. Questa è un post-it a farfalla. Molto bello. Per questo telefono. Post-it che carino. Molto costa. Sontocentesimi. Carino. Anna, non lo so. Anna, ti prego. Ciao a tutti. E' un periodo. I Catellani per il Campieri. E oggi Galabino per il Novara e Caccia per l'Ascoli. Ciao.